E' stata Amanda Sandrelli che ha interpretato il quinto canto, la ninfa calipso ad Areillà al progetto Odissea, un racconto mediterraneo affidato a tre protagonisti del teatro italiano insieme alla Sandrelli, Tullio Solenghi e Moni Ovadia che raccontano le avventure dei personaggi più famosi e suggestivi dell'Odissea per restituire al pubblico nelle intenzioni dei promotori della 55esima stagione estiva del teatro romano ovvero il teatro stabile dell'Umbria e il comune di Gubbio le più belle pagine dei versi di Omero come fossero puntate di una fiction, la prima della storia della letteratura occidentale. Portando in scena un testo coinvolgente e attuale ricco di contaminazioni con la letteratura contemporanea, la Sandrelli si è rivolta alle donne che devono lasciare andare via la propria speranza, un uomo o un ideale arrendendosi a ciò che è scritto dando così vita a un umanissima calipso. Quell'angolo di passato è oltretutto assai più alto del luogo in cui ci troviamo già che il tempo lo possiamo discendere e non risalire. Riavvicinarsi all'Odissea attraverso il fascino della parola detta, attraverso le parole del cantore vivo e in carne ed ossa, il senso di un progetto la cui ricchezza è nei tre cantori che trasportano con sé il proprio bagaglio e lo restituiscono con note a margine diverse e uniche. Giovedì 6 agosto alle 21 e 15 in Odisseo e Penelope, canto 19, Tullio Solenghi racconterà il primo incontro tra Odisseo e Penelope mentre lunedì 10 agosto alle 21 e 15 con Odisseo e la gara dell'arco, canto ventunesimo, Monio Vadia corre sulle onde dell'Odissea arrivando all'iteca di quello straordinario poeta che è Costantinos Cavafis.